Nemmeno il tempo di rimuovere l'immondizia che si formano nuovi cumuli immagini di degrado che feriscono la città e minano la vocazione turistica estiva. A Salerno nuove polemiche sulla Movida ma non solo, a far discutere l'abbandono indiscriminato di rifiuti non solo nel centro storico e sul lungomare abituali luoghi di ritrovo per il by night ma anche al ridosso delle spiagge. Il sindaco Napoli rivolge un appello ai cittadini affinché segnalino gli autori di questi scempi. Il nostro lungomare non può essere devastato da vandali scostumati. Aiutateci a scovare gli incivili che offendono Salerno, le dure parole della fascia tricolore. Intanto l'opposizione va all'attacco. Immagini desolanti, rifiuti ovunque, addirittura innanzi alla spiaggia libera della Baia di Domenica, quindi con afflusso notevole di bagnanti provenienti anche da altri comuni limitrofi. Ma scene del genere le abbiamo viste anche sul lungomare di Salerno e nelle zone turistiche della città. Non va bene, Salerno merita di più. I cumuli di rifiuti, alti, quindi montagne di rifiuti, che abbiamo visionato ieri in alcune zone della città, non possono essere responsabilità degli incivili soltanto. Certo ci sono anche gli incivili ma quelli c'erano anche quando la città di Salerno, c'è stato un periodo in cui la città di Salerno era oggettivamente una città pulita. I cittadini sono sempre gli stessi. Probabilmente è l'inefficienza dei servizi che spesso stimola anche l'incivile ad operare in modo non consono e non corretto e senza il rispetto che merita la città.